gentili telespettatori buona giornata benvenuti a questo video di tele italia il ministro di ministro della salute speranza dice non c'è data certa del vaccino tenersi pronti per la seconda ondata auspichiamo che il vaccino contro questa malattia arrivi il prima possibile e la ricerca globale sta facendo uno sforzo senza precedenti dice il ministro ma non c'è scritto da nessuna parte che c'è una data certa per il vaccino quindi fino ad allora dobbiamo tenerci pronti ad una eventuale seconda ondata lo dice roberto speranza qua in audizione in commissione d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti sulla gestione dei rifiuti legati dall'emergenza stessa e aggiunge un giorno sconfitto questo aver dotato il paese di posti letto aggiuntivi in terapia intensiva ci avrà resi più forti speranza ha sottolineato inoltre che la salute ha guadagnato in questa fase una nuova centralità si è presa consapevolezza dell'importanza di investire nella salute e aggiunge nel giro di pochi mesi avremmo una autonoma produzione italiana di mascherine che ci consentirà di essere pienamente autosufficienti e indipendenti dal mercato internazionale in una prima fase di questa vicenda tutta l'europa si è trovata in difficoltà aggiunge perché la produzione è stata portata col tempo nella disponibilità dei paesi non occidentali poi è scattata la corsa all'acquisto delle mascherine ma l'italia punta una produzione italiana di mascherine che consenta al paese di essere pienamente autosufficiente le mascherine di comunità consentono una protezione delle vie respiratorie e offre maggiori garanzie sul ciclo dei rifiuti e quanto al rischio connesso alle acque reflue è un corso uno studio dell'organizzazione mondiale della sanità per fare chiarezza io ringrazio per avermi ascoltato vi invito ad iscrivervi al canale l'iscrizione è gratuita siamo anche in facebook nella pagina tele italia io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata arrivederci e vi ringrazio e vi ringrazio e vi ringrazio per avermi ascoltato il nostro corso di